Ciao, come state? Spero bene, io effettivamente so bene, mi sono ricavata un po' del tempo oggi, in questa giornata mezza e mezza, insomma non è che ci sia tutto questo sole, no, mi sono ricavata del tempo perché sono andata in giro a fare un po' di commissioni e tornando indietro verso casa sono passata appunto in questo luogo che mi ha chiamato, mi ha detto, vieni Simona, fermati, fermati perché devi vedere come sono in inverno invece che in estate, sì perché questo è un posto dove ci sono venute anche l'estate qualche volta e sicuramente cambia, però adesso lo vediamo spoglio ed estate si riempie comunque di persone, di famiglie che fanno la classica grigliata proprio sul fiume, è un fiume questo che è il Po ed è un fiume come dicevo uno di quelli che effettivamente l'estate vengono presi d'assalto, anche perché ci sono tanti posti carini al di là di quelli un po' più aperti che insomma permettono di avere un po' più di gente ma anche più nascosti, ecco diciamo luoghi un po' più nascosti con delle isolette anche di spiaggia e quindi ecco che in alcuni posti è un pochettino più distante, adesso vabbè oggi non c'è nessuno perché in inverno non è che c'è tutto questo via vai, però c'è la possibilità anche di fare del naturismo quindi insomma mettiamo anche un po' tutto insieme che dire, è sempre bello passeggiarci in mezzo alla natura anche se sapete quanto io mi arrabbi perché insomma questa natura viene un po' distrattata nel senso che i rifiuti vengono abbandonati, vabbè al di là di qualche rifiuto ok cartaccia che viene portata magari dall'acqua magari anche durante delle piccole esondazioni ma la maggior parte dei rifiuti vengono abbandonati da persone come noi e sapete che a me questo perché non va giù però, però insomma, devo dire che qualche rifiuto potrebbe tornare utile come ad esempio delle calze autoreggenti ecco, non sono mie, non sono mie anche se il colore potrebbe essere mio e anche l'altezza della balza potrebbe essere interessante però va tutto bene ma penso che proprio li lascerò lì anzi, avrei dovuto avere un paio di guanti, un sacco di immondizia e raccogliere un po' di quello che c'è in giro potrebbe esserci anche un preservativo chiuso se vi interessa questo è ancora chiuso se non è scaduto, non è scaduto marzo 2026, non è scaduto possiamo prenderlo ho studiato di vedere la marca ma non ho niente in mano da poter prendere e... no, aspettate che guarda su un fassoletto dai facciamo proprio le cose luride come si dice ok, il fassoletto tanto è già sporco allora, intanto vabbè la balza poteva essere interessante il colore è un po' giallino ma va bene vediamo un po' il preservativo che marca saranno andati mai a comprare? qual è il preservativo che va per la maggiore? vabbè, è straniero era uno straniero secondo me che è venuto qui mucacche va bene questo lo ignoro però vabbè che faccio? butto? lascio? lascio vabbè lascio lascio lì mi sa mai che qualcuno possa arrivare possa servire no, dicevo appunto a parte queste cose che sono lasciare questo io lo tengo e non lo butto lasciate un pochettino in giro il bello però è questo insomma vedere il fiume che torre vedere magari non so se adesso ci sono ma insomma gli uccellini le paperelle gli anatroccoli aiuto eravate troppo vicino gli anatroccoli che hanno anche il loro habitat qui in queste zone poi bisogna fare attenzione che la piena porta anche tanti tanti rami come vedete degli alberi che appunto seccando insomma poi si rompono come vedete sono anche piegati vanno nell'acqua però poi quando arrivano i ponti insomma fanno massa questo crea poi l'innalzamento dell'acqua crea l'esondazione insomma crea tutta una cosa che ci fa pensare che anche in questo caso insomma un po' più di pulizia anche nei fiumi non sarebbe male faccio divulgazione scientifica quindi spero che gli amici di youtube o chi gestisce le pagine youtube insomma il canale youtube non mi blocchi anche questa volta questa mia chiacchierata perché vabbè se non alzo le mani e non so più cosa fare detto questo secondo me invece è interessante insomma che venga divulgato il più possibile perché stiamo parlando di come mantenere intatto in un modo un po' più pulito quello che è il nostro territorio il nostro ambiente anche perché di ambiente parliamo sempre tanto ma poi cerchiamo a vedere non facciamo molto ecco bottiglie di vino bottiglie di birra aspettate la birra vediamo un po' che birra è allora che ne sono ovunque ovunque allora questa birra è best brow anche questa secondo me era qualcosa di di straniero perché non è possibile una bottiglia di vino una bottiglia di vino eh no qua non riesco ad arrivarci dovrei proprio era un moscato un moscato quindi un vino dolce bianco secondo me è stato bevuto nel momento in cui tu guarda è ora di pranzo e ci avevo anche fame e allora vi ho detto che vi parlavo che è un luogo dove d'estate insomma si fanno anche tante grigliate ecco qui alla fine posso farmi anche una grigliatina io ora però di tramicare voglio andare a vedere che cosa c'è qui allora in questa scatola vabbè una bottiglia d'acqua delle foglie però un'inclusiva a parte quella nera questi qua sono pezzi di tubo che sono quelli sapete dei di gazebo probabilmente il gazebo si è rotto e hanno deciso giustamente no perché cioè se io ho una cosa che si rompe cioè non è che me la porto a casa e faccio la differenziata differenza e butto nel posto giusto no cioè abbandono qui certo assolutamente condivido questa cosa no poi c'è chi si fa anche una piccola capanna ma che in realtà poi proprio sotto non si può stare però insomma può essere anche un luogo dove quando c'è tanto sole d'estate effettivamente vado a cercare un po' d'ombra quindi mi faccio anche un po' una capanna certo d'estate però immaginate che non è tutto così come si dice secco ma in realtà c'è anche del verde le piante sono verdi quindi è anche carino effettivamente testarci qua tutte carine che c'erano di perellini degli alberelli che avviso si sono ammusciati e vabbè e quindi non ci resta che aspettare la primavera che da quanto vedo insomma non è che forse tarderà ad arrivare ma va bene quindi dicevo ora di pranzo aiuto perché non mi resta che farmi una grigliatina e se sono stanca posso prendermi anche una seggiola guardate qua seggiole arrugginite la non capisco un rastrello un pezzo di rastrello però insomma devo dire che tutto sommato posso trovare di tutto ah cazzo il salmone affumicato ma mi sa che lì c'è solo più sacchetto e non c'è più il salmone se no avevamo anche il pranzo da grigliare sacchetto con richiusi ovunque ma richiusi ovunque la pezza però l'hanno lasciata giustamente perché chi vuole venire così riesce a farsi anche la sua grigliata il tavolo se lo volete vabbè se avete caldo state un po' col piedi a mollo o col sedere a mollo oppure vi sedete da questo lato e mangiate in riva al fiume cioè praticamente avete tutto ecco questo è un po' insomma il po' che mi sono fermata e ho deciso un attimo di guardare com'era in inverno nonostante oggi proprio non ci siano temperature insomma invernali ma questo è anche perché cosa per darvi appuntamento a venerdì insomma sapete che mi sto organizzando insomma con dei lavori andrò a Sanremo a trasmettere quindi insomma stiamo facendo le ultime cose ma detto questo finalmente martedì se dalle alte sfere insomma vorranno che io sia con voi potremmo essere insieme martedì mattina con la nostra solita diretta delle 9.30 magari parleremo ancora un po' di carnevale ma perché no anche di questo modo di differenziare e poi invece per chi lo volesse lascio qui in sovraimpressione come si dice in sovraimpressione in sovraimpressione il link dove potermi seguire nella nostra diretta insomma del venerdì su Patreon naturalmente vi saluto vi abbraccio e niente adesso cucino qualcosa perché ho fame e poi e poi torno a lavorare perché va bene venire a scoprire va bene insomma girare va bene fare acquisti ma oh ci tocca anche lavorare e quindi insomma lo faccio molto volentieri perché mi permette anche di preparare qualcosa da raccontarci venerdì su Patreon e martedì su YouTube vado butto 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 e no cioè parlo tanto di riciclare e poi butto anch'io no non si butta questo lo buttiamo nel poffo giusto ovvero nel cittino potrei surfare un po' eh questo così si surfa e via verso nuove avventure ciao però sapete che ci stavo pensando che effettivamente potremmo iniziare noi a fare una pulizia insomma dei fiumi una pulizia degli amici di YouTube e Patron del mio canale della mia community potremmo farlo insieme organizzarci nel caso ci fosse qualcuno armati di guanti e sacchi e pulire insomma questi luoghi e magari proprio iniziare da qui perché no e vedere come può essere il luogo un pochettino più pulito e più differenziato comunque magari segnalatemi anche dei luoghi che avete visto come questo che insomma avrebbero bisogno di più attenzione di cura ma che in realtà eh la gente che lo utilizza non ha tutto questo rispetto per la natura e per l'ambiente e che quindi abbandona i rifiuti senza pensare ai danni che può creare all'ecosistema magari tutti insieme insomma parlandone e portando a conoscenza questi luoghi magari si riesce su più pronti ad intervenire a pulirli un pochettino vi aspetto ciao